Maschere di bellezza, sono la soluzione giusta? Oggi voglio parlare di uno strumento di bellezza che negli ultimi tempi ha riscontrato un grosso successo. Questo grazie alla moda del momento, ma grazie anche a svariati influencer che ne hanno parlato assiduamente. Mi riferisco alle maschere di bellezza. Questi cosmetici hanno degli scopi ben precisi. Riequilibrare un inestetismo, mantenere risultati ottenuti attraverso una corretta skin care e un trattamento estetico e potenziare questi risultati. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si commette l'errore di abusare di questi cosmetici, applicandone troppi e di diverse tipologie. Ma soprattutto, tutti i giorni. In questo modo, non facciamo altro che disorientare e componere la nostra pelle. Sebbene da principio potremmo riscontrare alcuni benefici, a lungo andare non solo vedremo l'inestetismo ripresentarsi, ma rischiamo anche di peggiorare la situazione. Se si vuole davvero migliorare la salute e l'aspetto della propria pelle, occorre affidarsi a delle professioniste che solo attraverso una consulenza e una diagnosi personalizzata saranno in grado di riconoscere il tuo tipo di pelle, capire le cause di un inestetismo e consigliarti un percorso accurato e idoneo, in grado di risolvere il problema alla radice. In conclusione, usare maschere di bellezza può senz'altro essere vantaggiosa per la pelle. Tutta via, bisogna farlo nel modo giusto, evitando di seguire una moda o il consiglio di un'amica. È essenziale ricordare che le pelli non sono tutte uguali, per questo ciò che funziona per una potrebbe danneggiare a un'altra. Quindi, se anche tu hai notato che la tua pelle ultimamente appare spenta, opaca e meno compatta di un tempo, è arrivato il momento di contattarci allo 0932 246 085 e prenota una diagnosi. Noi dell'Istituto di Estetica Avanzata alla Mimosa, grazie alla nostra esperienza trentennale, saremo lieti di prenderci cura della salute e della bellezza della tua pelle. Solo grazie ad un percorso studiato su misura e la nostra linea di cosmetici Luxury For Your Skin, create in collaborazione con il nostro cosmetologo di fiducia, potrai tornare ad avere una pelle tonica, compatta ma radiosa. Quindi riscopri la tua naturale bellezza. L'Istituto di Estetica Avanzata alla Mimosa ti aspetta in Via Napoleone Colaianni numero 41. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. Ciao!